Buongiorno, good morning Milano, 7 e 9 in questo istante, 7 e 9 minuti di oggi, mercoledì 20 marzo, è l'ultimo giorno d'inverno, eh sì, di solito si festeggia il primo giorno di primavera, invece noi quest'anno vogliamo darvi questa cosa che è l'ultimo giorno d'inverno, ma la primavera già si sente nell'aria, lo so, già lo dite da tempo, poi dopo arriverà un bel giorno, tipo il 27, il 29, così a caso, che piove tutti, ecco, è tornato novembre, no, no, tranquilli, marzo pazzerello, così dice, in realtà, insomma, dopo le grandi piogge dei giorni scorsi, adesso si sta bene in questi giorni, ieri c'era anche un bel sole che scaldava la giornata, ma anche verso fine giornata era piacevole girare, è al tramonto, con quella bella luce che illumina Milano, e allora voi cosa state facendo, cosa avete fatto ieri, cosa fate oggi, cosa farete questa settimana, 3317853555, potete tranquillamente condividere con noi tutto ciò che voi volete raccontarci, oggi noi siamo qui, come sempre fino alle nove, per raccontarvi anche noi un po' come va la nostra città, con i giornali davanti, li scartabelliamo un po' e vediamo un po' che cosa ne viene fuori, ma soprattutto per avere anche ospiti che saranno qui in studio con noi, oggi un paio di ospiti, raccontiamo e parliamo un po' di tutto, come sempre, con tanta anche buona e bella musica, offerta gentilmente e gratuitamente dall'ufficio programmazione di Crystal Radio, che ringraziamo, come sempre, buongiorno a loro ancora tutti, iniziamo con un po' di musica, come è andata la notte? È volata via? Com'è la notte? La notte vola! E la Lorella Coccarini con la notte vola! Com'è andata la vostra notte? Raccontatecelo al 3317853555, cosa potrà mai essere successo in una notte tra martedì e mercoledì di marzo? Chissà, magari invece avete lavorato, avete fatto festa, avete conosciuto nuove persone, che ne so, so che potete sempre sorprendermi, i miei ascoltatori possono sempre sorprendermi, quindi sono ben contento di condividere con voi il risveglio, risveglio della natura, la primavera, che ci ricordano anche, anzi adesso vado a leggere il whatsapp che è arrivato, quest'anno in realtà è già iniziata, perché buongiorno Cristallini e un saluto al nostro buon Fabio. Guardando il calendario, la primavera quest'anno comincia oggi, 20 marzo, perché l'anno è bisestile, è vero Alberto, effettivamente è bisestile, ma oltretutto sono andato a vedere meglio la questione, l'equinozio che ho scoperto all'età di 40 e passa anni non essere un giorno ma un istante, io pensavo che l'equinozio fosse il giorno in cui appunto inizia o finisce, quella roba lì, c'è l'equinozio di primavera e l'equinozio d'autunno, c'è l'equinozio quando inizia la primavera e quando inizia l'autunno, è il giorno in cui, mi sembra stato detto, è il giorno in cui le ore di sole, le ore di luce, le ore di buio sono identiche, no? In realtà l'equinozio è l'istante preciso in cui il sole è perpendicolare all'equatore celeste, che non è una roba legata a formigoni, non è quella roba lì, ma è la proiezione dell'equatore terrestre nella volta celeste, ok? Quindi, come se non l'allargaste, è un hula hop che gira intorno al mondo. Quando il sole, precisamente, perché succede solo in un istante dell'anno, è in quel punto lì, cioè due volte all'anno in realtà, è l'equinozio, ok? Ok? Ecco, quell'istante è già passato, perché è stato questa notte alle 4 del mattino, alle 4.06 del mattino, ora italiana. Quindi, tecnicamente, cari miei amici, siamo già in primavera. Ebbene sì, siamo già in primavera da quasi 3 ore, da 3 ore e 15 minuti più o meno. Quindi siamo in primavera, possiamo... Svegliatevi, bambine, ecco, siamo in primavera, quindi potete cominciare a star mutire senza problemi per i vostri problemi di polline. Come se dite, anche io la voce è leggermente ritoccata dalla rinite, ma il buon Alberto ci dà sempre una bella notizia finale. Arrivata primavera, hanno i bisestili, comincia il 20 marzo e arrivano anche le prime zanzare. Grazie Alberto per questo bellissimo momento di positività, ma volevo darti anche questa buona notizia. Qui, ad esempio, Milano News, qua nei nostri studi di Good Morning Milano, non sono mai andate via. Praticamente le abbiamo avute tutto l'anno. Io ho visto zanzare a novembre, ho festeggiato la Befana con alcune zanzare che giravano in ufficio, abbiamo festeggiato tutte le feste con il Carnevale, con le zanzare, quindi ormai ho idea che ci siano ceppi di zanzare che rimarranno qui ormai, proprio autoctone sono, cioè proprio vivono nel nostro habitat tutto l'anno, sì, sì. Però devo dire che effettivamente, adesso che mi ci fa notare, caro il mio Alberto, ieri ho visto già, ho visto proprio bene bene le prime due o tre zanzare tigre, quelle strisciate, erano già lì pronte a guardare, le ho spettasciate subito. Ah, scusate, chiedo scusa a tutti gli ambientalisti, ma sì, no, le ho spettasciate, adesso va bene tutto, le zanzare, dai. Hanno pensato che anche la zanzare che noi tanto odiamo, sicuramente, chiedo se c'è qualche, non so, non credo se sono gli ormitologi, ma comunque qualche insettologo in collegamento, servono a qualcosa, eh sì, sì, come forse anche il traffico, questo non lo so, ma lo chiediamo invece a Luce Verde. Luce Verde a voi! Pink Never Gonna Not Dance Again Invece noi continuiamo a ballare e danzare in questa grande città, anzi, il ballo è necessario in questi giorni per fare la gincana intorno alle buche, eh, lo sapete ormai, la questione buche è comunque micidiale, tutte le città ci sono passate, ricordate quando c'era Roma, ah, Roma sono solo le buche, ah, c'avete solo le buche, tutto così, tutto il tempo, e adesso, ovviamente, tutti a fare i fighi, a prendere per le chiare quegli altri, e adesso tocca a noi, ovviamente. Ci prende in giro tutta Italia, ci ha preso in giro anche il buon Crozza con un'imitazione di Sala che cerca di dare la colpa a chiunque, sembrava un po' la scena di Blues Brothers, colpa delle cavallette, così, ok. Ma, ehm, la verità è che Milano è crivellata di buche dopo le grandi piogge e allora è tornata ancora Sala a parlarne, perché leggiamo da Corriere della Sera a Milano, buche sulle strade a Milano, Sala dice nel 2024 interventi per 330 vie, poi aumenteremo i fondi, dopo, prima nebbiamo sistemiamo. Quindi, entro e fine dell'anno ci saranno interventi in 330 vie, il conto oggi è di 20 milioni. Non male, però, eh, devo dire che, insomma, per fare delle toppe, non male. Il Comune spende circa 20 milioni all'anno per la manutenzione stradale, ah, non solo per mettere a posto, così, ma per mettere a posto quelle lì, invece, tutti gli anni, per fare un po' di manutenzione. Altri 12 milioni per la sistemazione dei binari del tram, ok, per un totale quindi di 32 milioni. E ieri Sala ha, appunto, spiegato tutto quello che c'era da spiegare dell'intervento che ci dovrà essere in città entro la fine dell'anno. Un piano contro le buche di Milano, pensate, che nelle ultime settimane sono state al centro del dibattito cittadino e politico, così scrive Corriere della Sera Milano. Il sindaco Sala, annunciato nel corso della sua seconda diretta Instagram, ha fatto un'altra diretta Instagram, che il piano 2022, cioè, scusate, 2024, prevede 330 strade. Quindi la manutenzione è di 330 strade. E nel mese di, avevamo in programma, entro il mese di marzo e aprile, di occuparci di una decina di strade. Siamo rapidamente passati a 50, pensate. 8 le abbiamo ultimate, 4 sono in corso e poi ne abbiamo 38 che saranno seguite nelle prossime settimane. Ok, quindi, vabbè, non è marzo-aprile, vabbè, vabbè. Vedremo, quindi non ho detto che le farai 50 entro fino aprile. A me piace che la matematica di queste cose non torna mai. Io sono abbastanza un cane in matematica. Però la matematica di queste cose non torna molto mai. Cioè, così, non si capisce mai bene. E poi devo dire una cosa, a difesa di Sala, quando mai avrei pensato di difenderlo, che comunque rileggere le trascrizioni e sentire lui dice cose sono due cose diverse. Però, insomma, è abbastanza divertente vedere come, insomma, i conti sono sempre abbastanza strani. Comunque, sa di fatto che il Comune sa che c'è questo problema, bene o male, vuole intervenire e speriamo, appunto, che intervenga in maniera efficace e non come fa il Sala di Crozza, invece. Vi invito ad andarlo a vedere, andate su YouTube e cercatelo. Molto, molto divertente. E fa, beh, insomma, fa un'ambitazione abbastanza, ovviamente, stereotipata e esagerata del nostro sindaco, però fa abbastanza sorridere. Perché dà l'idea, no, di come a volte certe risposte sono distanti da quello che magari pensa la città e invece magari poi si dà con l'idea sua, ha tutto un processo in mente che però, insomma, a volte non viene fuori nella comunicazione verso i cittadini. Beh, sarà di fatto. Comunque, quello che dovete fare è uscire in questa città e, come sempre, correre, correre, correre. Right now, Sophie and the Giants. Bentornati. 7.34 minuti qui a Good Morning Milano, ma credo anche dalle vostre parti, così a occhio. Ma a meno che, ricordatevi che noi siamo comunque una radio FM, siamo una radio Dab Plus, ci ascoltate nell'autoradio, ma volendo ci potete ascoltare anche sul web. E quindi, che ne so, in questo momento mai qualcuno da Sydney non stia ascoltando Good Morning Milano. Poi, dopodiché, mi spieghi cosa mi ascolti a fare da Sydney. Però, magari, ti manca Milano. Ecco perché. Eh, non è per quello. Ti manca Milano. Mi ascolti da Oakland oppure da San Francisco. Quindi non sono le 7.34 a casa tua. Ma qui a Milano, e molto probabilmente nel 98% di chi ci sta ascoltando in questo momento, sono le 7.34. Quindi, buongiorno a tutte e a tutti. Notiziona da Milano Today. Quando inizio così sapete già che va a finire male. Leggo da Milano Today. L'anello filoviario della 90-91 sarà completato. Era ora. No, scusate, ho lasciato questo silenzio apposta. So che, in questo momento, l'ufficio programmazione è saltato sulla... L'ufficio tecnico di Cristalera ha detto, oi, si è rotta tutto. No, no, no. Ho lasciato un attimo di pausa apposta. Per la riflessione sul fatto che, finalmente, l'anello filoviario della 90-91 sarà completato. Vera, ora, come che dire, non male, eh. Cioè, quanti anni è che aspettiamo che ci sia tutto l'anello finito in sede protetta? E, finalmente, c'è, costerà 47 milioni di euro e prevede una corsia preferenziale lunga a 2,5 km, più o meno, 2,7 km. Anche qua. Ma come può costare fare tutto sto casino 2,7 km, 47 milioni, quando per la manutenzione invece prima dicevamo tutto, spendiamo 20 milioni all'anno? Cioè, i conti non tolgono. I soldi non li capisco a sto punto. I soldi nel monopoli, non lo so. Non capire. Comunque, l'anello filoviario, appunto, vedrà il suo completamento entro la fine del 2026, quindi non ce l'avremo neanche per le Olimpiadi. Costerà circa 47 milioni. Sono previste anche nuove piste ciclabili per 4 km, un aumento di spazi pedonali di 11.000 m2, va bene, e la messa a dimora di 378 nuovi alberi, 6 piazze riqualificate. Tutto questo per soli 45 milioni, va bene, è regalato quasi, non siamo di 47 milioni, quasi regalato. Questi milioni saranno divisi come? Allora, la realizzazione della prima tratta costerà 21 milioni e 400 mila euro. Quella di via Le Umbre 14 milioni e 800 mila euro e quella di via Pergolesi 7 milioni e 450 mila. Ma quali sono questi tratti di strada da fare? Finalmente, per tirando a breve, i lavori del tratto Piazza Stuparic, Piazza Zavattari. Oh, tutti in coro. Oh, benissimo, sarebbe ora. È lì fermo da non sappiamo quanti anni. C'era il posteggio, hanno tolto il posteggio, hanno fatto il cantiere, hanno tolto il cantiere, hanno messo il baracchino che vende i palini con la bistecca di cavallo, hanno tolto il baracchino, e adesso c'è il nulla. Quindi, finalmente, si inizieranno i lavori. Quindi, iniziano i lavori tra Piazza Stuparic e Piazza Zavattari, poi ci saranno anche i tratti di via Pergolesi, quindi che vanno da via Pergolesi a via Piccinini e via Le Umbria, e poi tra Piazza Capelli e Viale Muratori. Non sapevo che fosse un Viale Muratori, pensavo fosse via Muratori. Comunque, il progetto è importante e atteso da anni, come ha sottolineato anche l'assessorato, l'assessorato alla mobilità, diretto appunto da Arianna Censi. Quindi, assessora, grazie per questa notizia. Finalmente sistemiamo anche questa parte di città. E andiamo avanti! La SED, autodistruttivo, 7.41 minuti, in nuovo qui con Good Morning Milano. Buongiorno ancora a tutte e a tutti. Avete capito, quindi oggi abbiamo dato notizie sulle buche che finalmente verranno coperte a Milano entro fine dell'anno più di 20 milioni per la manutenzione stradale. La filovia 90-91 sarà finalmente completata. La sede protetta, diciamo, la preferenziale, ecco, chiamiamola così. Viene comunque finalmente in teoria. Io ci metto ancora in teoria, perché, insomma, sono anni che in Piazza Stuperi ci dicono che deve finire. Tra parentesi, c'era un bellissimo progetto. Due parentesi, apriamo. Abbiamo due parentesi. Una, la Piazza dell'Oretto verrà comunque rimessa a posto. Quindi anche lì bisogna capire poi come girerà la 90-91 nel caso, perché passa lì proprio lì di fianco. Quindi capire come vorremmo gestire quel passaggio, spostarlo più esternamente. Cioè, lui passa leggermente più internamente e capire se invece dovrà finire su quell'asse di lì. Ma soprattutto c'era una volta un progetto molto interessante del rifacimento di Piazzale Lotto che invece, boh, si è perso. Non so più che fine abbia fatto. Quindi anche lì stiamo all'occhio e cerchiamo di capire che cosa succederà. Sta di fatto che appunto la 90-91 è una delle grandi particolarità della società. Poi questa cosa che ha il doppio numero. Se gira da una parte fa 90, se gira dall'altra parte fa 91. è il grande autobus che raccorda tutti quanti noi milanesi e ci fa sentire poi soprattutto di periferia o di centro. Perché in base a dove siete messi, se siete al di qua o al di là del punto del tragitto, da 90-91, siete gente di centro o gente di periferia. E vabbè, noi qua ovviamente facciamo il tifo per la gente di periferia, essendo noi, e vi ricordo sempre qui con Good Morning Milano. Siamo dagli studi di Milano News in quel di San Siro. Anche questa radio la sede è comunque su Naviglio, quindi noi siamo gente di Naviglio. Gente così. Milano, Milano è questa. Milano è tanto altro. Ne parliamo anche con i nostri ospiti che ci stanno raggiungendo qui in studio, in collegamento. Insomma, oggi giornata molto, molto pregna di contenuti e di ospiti che avremo in diretta fra pochissimo qui a Good Morning Milano. Prima di andare con la prossima canzone vi ricordo anche il nostro numero di WhatsApp 331-78-53-555. La primavera è arrivata e come sentite anche le allergie, perché sicuramente non sarò l'unico che avrà insomma un po' gli occhi lucidi e il nasettino che è un po' così pieno e fa fatica. Sono così. In questi giorni avrete magari un Fabio con una voce un po' diversa, ma cercherò sempre comunque di darvi il caloroso abbraccio che tutte le mattine vi riservo per farvi svegliare al meglio e farvi affrontare nella migliore delle maniere un'altra giornata, un altro mercoledì, un altro giorno, in compagnia di Crystal Radio e Good Morning Milano. E andiamo con la musica allora Dua Lipa Training Season, 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 Season. Dua Lipa comunque, lei sicuramente è Dua Lipa. Training Season, lo dice lei, Dua Lipa, quindi ecco il titolo giusto è quello. Training Season è alle 7.47 minuti, entriamo un po' invece nelle notizie perché in attesa di una manifestazione che ci sarà il 6 di aprile, molto importante, che ha a che fare con il CPR di Via Corelli, anche questa sera, se volete arrivare, anzi, un po' diciamo, se volete arrivare preparati al 6 di aprile, questa sera potrebbe esserci un interessante appuntamento per voi. Ce lo dice, ce lo racconta meglio la nostra ospite, buongiorno a Danna Campo San Piero della rete Mai Più Lager, no, ICPR, buongiorno, benvenuta a Good Morning Milano. Buongiorno a voi, buongiorno, buongiorno a voi. Ah, dicevo, no, il 6 di aprile ci sarà questa importante manifestazione per chiedere la chiusura del CPR di Via Corelli, ma questa sera veramente potremmo cominciare, non so, a introdurre l'argomento e a capire meglio oppure a sapere bene appunto di cosa stiamo parlando. Perché cosa c'è questa sera all'Expornace sull'Alzaia Naviglio? Allora, questa sera Oscar Agostoni, che è questo autore e attore, ci metterà in scena questo spettacolo che si intitola Reietti, come creammo i CPR, che ispirandosi alla storia di Musa Bald, questo ragazzo di 23 anni della Guinea che si è suicidato nel CPR di Via Brunelleschi a Torino, ha costruito un monologo di una potenza emotiva straordinaria in cui ci porta dentro quello che è l'inferno dei CPR, ma non solo, anche come vengono costruiti, da dove nascono e come il sonno delle nostre coscienze permette che esistano. Ormai sono anni che un po' dormiamo, voi della rete non tanto, però noi cittadini un po' troppo a volte ed è importante come veramente, come dicevi poco fa, il sonno delle nostre coscienze è alimentato però tutto questo e quindi è importante forse farci anche un esame di coscienza direttamente, noi altri. Sì, noi siamo bombardati quotidianamente da una propaganda in cui c'è un nemico che cerca di invaderci e quindi viene disumanizzato e in questo, senza fare spoiler, anche nello spettacolo viene raccontato molto bene questa visione di altri da noi che cercano di invaderci e questa cosa è strutturale e costruita negli anni e quindi noi abbiamo un dovere culturale di smantellarla proprio perché genera diffidenza, guerra e paura esattamente quello di cui si nutre poi chi vuole rinchiudere le persone in questi luoghi. A chi è rivolto inoltre lo spettacolo? Cioè, a chi ne sa già, a chi non ne sa niente, a chi vuole approfondire? Chi è il pubblico perfetto per questo spettacolo questa sera? Ma guarda, anche chi non ne sa niente perché poi viaggiamo accompagnati alla fine dello spettacolo ci sarà un mio intervento a nome della rete in cui spiegherò un po' meglio che cos'è la detenzione amministrativa, qual è l'origine, perché è un'aberrazione giuridica, perché non possiamo in questo caso noi a Milano avere un luogo di questo tipo praticamente in città perché Viacorelli non è neanche più quasi periferia con l'espansione della città e quindi è indirizzato un po' a tutti ma diciamo che anche chi magari sa che cos'è un centro per i rimpatri questo è un CPR viene trascinato dalla forza emotiva con cui viene interpretato questo monologo che vorrei aggiungere è di e con Oscar Agostoni ma con l'aiuto anche di Elga Bernardini che si occupa delle luci, della musica e quindi è uno spettacolo che ha promosso in questo caso questa sera l'ampi barona Carlos Muraglia quindi un'attenzione le ampi sappiamo che hanno a cuore la Costituzione ecco nei CPR la Costituzione non esiste tutto questo a Milano c'è anche l'aggravante sappiamo del commissariamento del fatto che adesso il gestore deve esserci un nuovo gestore ma le cose comunque continuano ad andare male perché l'abbiamo visto grazie anche ai filmati che finalmente riescono ad uscire le notizie che ogni tanto trappelano insomma è sempre peggio la situazione si allora diciamo che il commissariamento noi lo rivendichiamo come una nostra vittoria perché parte proprio dalle denunce che noi come rete facciamo da 5 anni perché grazie a un ricorso che ha fatto il Naga a Corelli si possono tenere i cellulari e non vengono spaccate le videocamere quindi c'è un numero di telefono che si chiama SOS CPR e quindi a noi arrivano informazioni però il commissariamento non basta il commissariamento è una situazione in cui il gestore ha approfittato anche dei pochi soldi che vengono investiti per cercare di fare profitto ed è una situazione che si verifica ovunque ma il problema non è chi lo gestisce il problema è l'istituzione in sé il luogo in sé lo abbiamo visto con l'ennesima morte di Stato Osman Silla che si è suicidato a Ponte Galeria qualche settimana fa quindi non è certo siamo contenti che finalmente non ci sia stato un giudice perché noi abbiamo fatto più di un esposto qualcuno che ha raccolto le nostre denunce ma non è sufficiente non si possono democratizzare vanno chiusi e allora appunto se volete capirne un po' di più se volete capire un po' di più questa sera è il momento giusto ricordiamo allora Anna che cosa possiamo vedere questa sera e dove dacci tutte le coordinate e anche come funziona ingresso libero dobbiamo prenotarci dacci un po' anche appunto le cose più tecniche per capire come fare a venire all'ex fornace questa sera allora lo spettacolo si intitola Reietti come creammo i CPR inizia alle 8 e mezza organizzato alla ex fornace di via alzai annaviglio pavese numero 16 ingresso libero organizzato dall'ampibarona Carlos Muraglia col patrocinio del municipio 6 vi aspettiamo davvero vale davvero davvero la pena preparatevi perché è una botta emozionale incredibile e poi magari appunto a quel punto siete pronti per il 6 di aprile ricordiamo velocemente cosa succederà il 6 di aprile il 6 di aprile la rete My Pure Lager noi CPR chiama una piazza a partire dalle 15 il luogo lo stiamo definendo con le autorità con chi lo deve autorizzare o definire ed è un ritorno in piazza dopo un po' di tempo dopo la pandemia dopo alcune situazioni che ci hanno impedito di scendere in piazza chiediamo alla città di unirsi a noi e non solo abbiamo risposte anche da altri luoghi dove si vogliono costruire nuovi CPR o dove già ce ne sono per dire no ai CPR né in Italia né in Libia né in Albania né altrove e insomma questa è la richiesta chiara e semplice anche mi verrebbe da dire quindi poi comunque so già che ti avremo qui ospite per parlarne nelle prossime settimane appunto in vista del 6 di aprile allora questa sera ricordiamo all'ex fornace alle 20.30 lo spettacolo che racconta i lager che ci sono in questo momento nella nostra anche nella nostra città Reietti come creiamo i CPR grazie mille ad Anna Camposampiero della rete mai più lager noi CPR buona giornata e a questa sera allora grazie a voi buona giornata grazie mille ancora Anna e grazie anche a voi che ci avete ascoltato perché è importante è importante questo tema lo sapete quanto noi di Good Morning Milano siamo legati anche appunto a questo tema dei CPR adesso un po' di musica ma poi torniamo qui e non andiamo da nessun'altra parte Olivia Newton-John il Crystal History delle 8 wow comunque grazie all'ufficio programmazione che ci dà sempre grandi pezzi bentornati a Good Morning Milano 8.08 20 marzo primo giorno di primavera mi ha scoperto grazie all'anno Business Steel effettivamente non avevamo fatti conti quindi ringrazio sempre chi da casa ce l'ha ricordato stiamo parlando oggi di un po' di tutto quello che succede nella città di Milano un po' come sempre diciamo e c'è un appuntamento interessante il 23 di marzo è il Festival del Made in Italy appena ho letto questo ho detto sapete che c'è non voglio neanche leggere cos'è chiamo subito chi lo organizza così almeno mi spiega bene lui ed ecco con noi infatti Giovanni Broca buongiorno a tutti faccio prima quando dico una cosa che dico ma potrebbe essere interessante non sto neanche ad approfondire ti chiamo subito così me lo dici tu bene che cos'è il Festival del Made in Italy casualmente a Milano beh non è un caso poi forse non è assolutamente che cos'è questo Festival Giovanni? intanto grazie per avermi invitato e soprattutto per la curiosità il Festival del Made in Italy è organizzato da Eccellenza Italiana che è una community di cui tu sei il co-founder di questa community è una community nata sui social e che comunica principalmente a un target molto giovane per cui tutti i ragazzi sotto i 30 anni e quello che noi vogliamo fare tramite questo Festival è promuovere il ricambio generazionale all'interno dei principali settori del Made in Italy c'è questo grosso problema proprio nei settori di moda design automotive agroalimentare che sono poi i settori in cui l'Italia è vista come un'eccellenza in tutto il mondo e che hanno bisogno di rinnovarsi hanno bisogno di forze nuove hanno bisogno che i giovani i ragazzi si interessino a questi settori e decidano anche di percorrere questa strada questo percorso lavorativo e noi tramite questo Festival quello che vogliamo fare è mostrare ai ragazzi cosa sono le eccellenze del Made in Italy per cui portare i giovani artigiani come modelli ispirazionali per i ragazzi perché quello che noi pensiamo è che questa mancanza di ricambio generazionale sia soprattutto dovuto a proprio un racconto sbagliato che si fa del settore dell'artigianato e della manifattura italiana i ragazzi non hanno un modello a cui ispirarsi che vedono come figo come cool per seguire le orme appunto di in questi settori per cui della moda del design agroalimentare dell'automotive quello che noi faremo al Festival è portare questi modelli portarli sul palco far vedere ragazzi cosa significa fare l'artigiano o cosa significa lavorare in un'azienda made in Italy e noi speriamo che questo sia un po' il nostro apporto perché appunto questo che ti raccontano tu arriva anche si evince anche da dei dati dell'Inps che dicono che dal 2012 al 2022 sono stati persi oltre 300.000 artigiani in circa oltretutto abbiamo anche preso una elaborazione di dati fatte da CNC Media che ringraziamo che dice appunto che è una diminuzione praticamente su tutta la scala su tutte le regioni italiane con però una maggiore concentrazione nelle regioni del nord e tra le cause appunto che si evincono solvanto che ci sono pochi che seguono questa strada una di quelle appunto è le nuove generazioni le nuove generazioni non sono attratte da questo tipo di lavoro e quindi benvenga appunto un festival che cerchi di far capire invece che ci sono possibilità di bel lavoro anche di guadagno benvenuto ben remunerato assolutamente assolutamente ma infatti è diciamo un preconcetto che c'è è un racconto anche sbagliato che se ne fa di questo tipo di lavori che si pensa che siano poco diciamo pagati numero uno ma anche socialmente poco diciamo posizionanti all'interno della società quando in realtà comunque fare uno di questi lavori porta grandi soddisfazioni sia dal punto di vista economico che dal punto di vista personale proprio e allora bene io ti chiedo allora di rimanere qui con noi ancora che andiamo avanti a parlarne tutta la mattina insieme ancora ma prima ovviamente mandiamo un po' di musica stiamo parlando di Il 3 con Fragili direttamente da Sanremo direttamente qua su Crystal Radio Il 3 Fragili good morning Milano Il 3 con Fragili stiamo parlando del festival del Made in Italy che vedrà la sua luce il 23 marzo al Talent Garden Calabiana abbiamo parlato appunto che tutto insomma tutto nasce potremmo chiamare anche il festival della resilienza perché c'è un problema lo risolviamo gli artigiani sono pochi pochi si affacciano al Made in Italy bene facciamo vedere che invece c'è bisogno di affacciarsi questa riduzione di cui parlavamo che cosa significa però per una città come Milano beh diciamo che Milano è toccata proprio da vicino da questo problema di ricambio generazionale basti pensare che i due eventi che sono più famosi a Milano e che la rendono il centro del mondo sono il Salone del Mobile e la Fashion Week che sono che sono proprio la massima espressione di quello che è il design e la moda e ovviamente questi due eventi si portano dietro tutto un settore che arriva dalla grande maison fino al piccolo sarto e ovviamente è un grosso settore che ci fa vedere il mondo come un'eccellenza italiana e che porta ovviamente i turisti a Milano ma è che è anche un settore che oltre che degli eventi ha bisogno proprio di una nuova comunicazione soprattutto ai giovani affinché percorrano questo tipo di strade lavorative e allora gli ai città di loro mi ha anticipato la domanda che ve lo ho fatti dopo ma te la faccio subito giovani futuro dei giovani come si può fare a pensare a un futuro nel Made in Italy già magari dal percorso formativo dal percorso delle scuole cioè si può pensare già di fare quel percorso di qual è il percorso adatto ma diciamo che ci sono noi in questi in questi mesi abbiamo visitato tante scuole che secondo me sono un'eccellenza per la formazione in questi settori che mettono subito il ragazzo a contatto proprio con la parte progettuale fanno comunque mettere mano diciamo proprio ai prodotti sono poche perché c'è ancora a parer mio un problema con l'orientamento sia alle medie che poi alle superiori per i ragazzi i quali quasi sempre scelgono un certo percorso lavorativo perché si pensa che magari quel ragazzo non è tanto bravo a studiare allora deve andare a fare un percorso professionistico professionale eccetera eccetera ne abbiamo visti bastare tanti qua da Good Morning Milano che fanno il PCTO ad esempio esattamente di gente che secondo me doveva diventare Nobel per la letteratura altro che ma che poi invece no vabbè a fare il professionale che è una roba e invece gente che anzi esatto purtroppo sono queste scuole sono viste con diciamo dei preconcetti e per cui vengono quasi viste di malocchio e si investe poco anche in questo tipo di formazione soprattutto un investimento interessante perché effettivamente sono scuole che invece anzi quando poi le fai le fai bene esci che sei un'eccellenza anche tu sei un'eccellenza italiana assolutamente basta pensare che quelli che noi adesso vediamo come i massimi esponenti del Made in Italy da Enzo Ferrari a Armani erano persone che mettevano mani ai propri prodotti sono persone che avevano una spiccata manualità per cui gli istituti professionali o scuole che ti portano subito a fare esperienza nella manifattura e nell'arteggianato le scuole di mestiere ci sono anche vero? sono ecco devono essere promosse e anzi sostenute affinché ci sia un continuo ricambio in questi settori se no non ci saranno più un Enzo Ferrari un Del Vecchio o un Armani eh infatti chissà chissà ci saranno ancora ma ci saranno vero? perché voi li vedete poi qualcuno no? ci sono questi qua difficile trovarli ma ci sono e anche questo magari appunto nel festival del Made in Italy potrà magari uscire fuori moda motori cibo va bene questi sono i Made in Italy che tutti conosciamo ma qual è il Made in Italy che non ti aspetti? avete trovato qualcosa in questi anni? eh noi su proprio su eccellenza italiana abbiamo una rubrica che si chiama pillole di Made in Italy in questa rubrica andiamo a trovare un po' tutti quei Made in Italy che appunto non non ti aspetti ce ne sono tantissimi io penso che eh più che di Made in Italy bisognerebbe parlare di saper fare italiano è vero che il Made in Italy è un bel marchio internazionale ma quando dici saper fare italiano è quella la vera eccellenza noi abbiamo diciamo la nostra forza è il saper fare in diversi campi a livello progettuale abbiamo una visione sul mondo e una modalità di mettere mano proprio agli oggetti modificarli innovarli che è tipica proprio italiana è la nostra eccellenza abbiamo tantissimi per esempio il traduttore simultaneo usato dal Parlamento Europeo ah dai che traduce 24 lingue in modalità simultanea e le scrive è italiano ecco vedi questa è un'eccellenza ecco è una grande eccellenza è una grande eccellenza e allora continuiamo a parlare di eccellenza possiamo parlare di Made in Italy subito dopo un'altra canzone stiamo parlando di Clara con Diamanti Grezzi Clara Diamanti Grezzi no Diamanti non sono un'eccellenza italiana quella no o siamo anche in quella filiera beh sicuramente sarà qualcuno che ci lavora sicuramente avremmo inventato qualcosa anche lì la voce che avete sentito quella di Giovanni Brocca cofondatore di eccellenza italiana che è organizzatrice di Festival del Made in Italy ricordiamo bene quando è e come far venire perché poi abbiamo una piccola pausa però abbiamo un minutino per dare proprio le coordinate poi torniamo ancora a parlare di chi e cosa ci sarà al Festival sì il Festival del Made in Italy del 23 marzo per cui questo sabato avrà luogo a Talent Garden Calabiana e inizierà alle 9 del mattino fino alle 8 di sera e ci saranno tantissime attività nella parte di hub centrale ci saranno un po' le nostre rock star gli artigiani i giovani artigiani che faranno vedere proprio ai ragazzi come fare un prodotto di alto artigianato addirittura ci saranno dei ragazzi di Murano che faranno vedere la creazione del vetro di Murano live ci saranno i forni avverto tutti e una parte invece poi di palco dove si parlerà di Made in Italy con i maggiori esponenti gli ambasciatori del Made in Italy nei settori di moda design agroalimentare e automotive tutto questo appunto sabato 23 marzo al Talent Garden bisogna iscriversi sul sito come funziona il sito festival del Made in Italy punto com ci si potrà comprare i biglietti e registrare perfetto perfetto e allora adesso invece andiamo ancora un attimo in musica e in pausa ma poi torniamo qui perché voglio capire chi viene cosa vedremo oltre al fuoco già parlato del forno già mi interessa questa cosa qui del forno per i Murano le vetrerie di Murano insomma interessanti sono quelle sono appunto le famose eccellenze di cui parlavamo prima e questi lavori che insomma abbiamo detto 300.000 artigiani persi dal 2012 al 2022 magari con il Verso dei Made in Italy riusciamo a invertire questo trend non sarebbe per niente una brutta idea avanti con la musica adesso Tom Walker con Ed Underwater e poi torniamo qui sempre qua a Good Morning Milano Loredana Berte pazza 8.33 minuti Crystal Radio Good Morning Milano stiamo parlando con Giovanni Brocca co-founder di Eccellenza Italiana del Festival del Made in Italy 23 marzo sabato 23 marzo al Tallengarten Calabiana allora prima ci dicevi che troveremo anche dei soffiatori di vetro giusto? ma non solo sono rimasto su quello quindi allora l'unica cosa che mi può distogliere l'attenzione in questo momento è che c'è anche del cibo c'è del cibo ecco basta ciao ciao Murano e Burano adesso sono sul cibo c'è anche del cibo ci saranno anche del cibo ci saranno tante sorprese tanti ospiti e soprattutto anche tanti artigiani giovani e questa è secondo me è un po' la sorpresa perché un po' tutti noi abbiamo questo immaginario dell'artigiano vecchio il mio nome è l'artigiano infatti ho quell'idea lì effettivamente invece ci saranno tanti artigiani giovani che in particolare sono famosi anche sui social per cui sanno comunicare bene con i ragazzi più giovani e che mostreranno proprio dal sarto al calzolaio come effettivamente si può diventare artigiano ancora oggi e si può farlo sfruttando le nuove tecnologie la buona faccia dell'influencer esatto ci sono anche a me non è male la miglio influencer invece della miglio gioventù in questo caso e non è male perché quindi mi dicevi che ci sono anche appunto dei giovani artigiani giovani che hanno a che fare con il meditoli che riescono a comunicarla questa cosa e come reagisce appunto la rete come reagiscono gli altri giovani ma sono diventate un po' delle rock star quasi perché hanno reso questo fenomeno molto pop e piace piace molto vediamo anche sui nostri canali l'artigianato è qualcosa che va di moda in realtà noi abbiamo fatto una campagna che diceva l'artigianato l'artigiano non va di moda invece in realtà va di moda sui canali social in particolare su tiktok e questo può segnare secondo noi una possibilità di interessamento da parte delle nuove generazioni oltre che sul palco ci saranno poi invece quelli che a tutti gli effetti sono esponenti principali da appunto Fabio Novembre il famoso designer proprio nel campo del design ci sarà Giordano Calza di DCCDS per il settore della moda ci saranno anche ospiti nel settore diciamo della ristorazione dell'agroalimentare come Rossella Cerea per esempio da Vittorio il ristorante Tre Stelle Michelin insomma un sacco di ospiti che non voglio spoilerare ma che comunque potete già vedere sul sito ha fatto un nome a caso Fabio Novembre che non è proprio a casissimo perché è un designer pazzesco per chi non lo sapesse è quello che ha fatto una famosissima sedia con una faccia e per chi non lo capisse e non lo sapesse meglio è quella stessa sedia che c'è nella locandina della serie Netflix di Lupin giusto per farvi capire che non è proprio siamo a Milano si può dire non è l'ultimo Pirla arrivato cioè è proprio una roba di quelle e questo è solo uno di quelli che verranno a raccontare a parlare del Made in Italy prima dicevi com'è che era lo slogan che avete fatto sull'artigiano c'è questo slogan che è in giro un po' per tutta Milano sui cartelloni che è l'artigiano non va di moda io ne avevo pensato già un altro per la prossima edizione non è un paese per artigiani mi piace che lo regalo così sono le cose che mi scrivo sui miei appunti e mi faccio queste cose dovevo dirla non l'ho scritta non potevo non dirla prima diciamo appunto di questo però in diminuzione mi hanno detto che un po' le cause sono anche il fatto che i giovani in realtà non è che non si affascinano a questo perché poi mi hai detto che poi quando glielo racconti si affascinano non sanno neanche che esiste è quello il problema altre cause quali possono essere invece di questa diminuzione di artigiani soprattutto appunto nelle regioni del nord e soprattutto in una città come Milano beh sicuramente è un problema anche come dicevo prima legato molto all'orientamento legato anche alla formazione che si fa per cui ecco da questo punto di vista noi possiamo fare non possiamo fare granché perché è più in mano alle scuole o comunque a chi ne compete noi ecco possiamo parlare di comunicazione per cui di come questo viene comunicato ai giovani e come farli interessare il fatto che Celesa Italiana è resa a comunicare bene tutto questo lo dicono anche i vostri numeri perché stiamo parlando di più di 500.000 iscritti alla vostra community ormai quanti anni è che comunitate in realtà da pochi anni perché siamo attivi da circa due anni e in due anni comunque siamo riusciti a creare diciamo un interesse comune per questo tipo di argomenti per quello che sono le eccellenze italiane abbiamo una community che ci segue anche negli eventi offline per cui significa che c'è molto attaccamento se viene spiegato divulgato nel modo giusto se sono in particolare giovani che parlano con questi nuovi linguaggi appunto sui social network possono fare veramente interessare anche i ragazzi noi giornalisti ne diciamo tante il più delle volte sono anche sbagliate che cosa qual è quella cosa che poti far arrabbiare quando parliamo del made in italy che dici ma non è così spiegatela bene perché non è proprio così c'è una cosa che un po' dici ma no viene raccontata male raccontatela meglio sì diciamo che quasi sempre quello che si fa è andare a a sbattere sempre sui stessi stereotipi dell'italia per cui si va sempre sul cibo che comunque rimane un'eccellenza però ci sono tantissimi campi in cui il made in italy e l'italia sono un'eccellenza parlavo prima appunto del nostro format pillole di made in italy che fa vedere quante aziende ci sono in italy in realtà in tantissimi settori che fanno veramente la differenza a livello mondiale eppure si parla sempre diciamo del cibo o comunque oppure si fa un racconto diciamo negativo soprattutto anche dell'italia sui giornali e online ecco ogni tanto anche evidenziare qualcosa di positivo non è male non sarebbe male bene bene allora prendo appunti per le prossime volte Giovanni ricordacelo l'appuntamento di sabato l'appuntamento è sabato alle 9 in talent garden carabiana a milano e ci sarà il festival del made in italy i biglietti sono su festival del made in italy punto com festival del made in italy punto com lì avete tutte le informazioni il programma vedrete i nomi di chi di chi ci sarà oltre a fare un novembre saranno tanti altri anche ci saranno e potete appunto anche acquistare i biglietti quindi insomma andate sul sito c'è tutto scritto lì quindi non si scappa bene grazie Giovanni buon festival allora grazie mille ci si vede allora sabato al talent garden calabiana grazie davvero per questa storia che ci ha portato e per le eccellenze che raccontate che portate anche a conoscenza appunto delle nuove generazioni così che questo famoso dato che insomma ci ha lasciato un po' così persi 300.000 artigiani dal 2012 al 2022 magari riusciamo a invertire questa rotta non sarebbe niente niente male e allora andiamo avanti grazie mille Giovanni andiamo avanti con la musica prima di salutarci tutti quanti qui alle 8.40 su Crystal Radio questo è Good Morning Milano beh tra le eccellenze comunque ci sono anche le industrie le industrie chimiche non so devo trovare un gancio per la prossima canzone Giovanni che è Cesare Cremonini con chimica ma non credo che parlasse di quello quindi era un po' difficile effettivamente ascoltatevi lui che invece è molto meglio delle cose che dico io dai Cesare Cremonini chimica grazie ancora Giovanni grazie a te Cesare Cremonini con chimica sempre qui su Crystal Radio Good Morning Milano insomma vi stiamo raccontando un po' tutto quello che succede nella nostra città abbiamo parlato dell'eccellenza italiana e di quello che poi sarà il festival del Made in Italy il 23 marzo al Talent Garden Calabiano insomma gli appuntamenti sono veramente sempre tantissimi da seguire in questa città e insomma sappiamo che insomma sono davvero davvero tante le cose da fare prima di andare avanti con un po' di musica però una notizia che arriva da Niguarda perché l'avete sentito che anche nei giorni scorsi abbiamo raccontato che c'erano i cittadini un po' sul piede di guerra perché da un po' c'è un annetto era stato chiuso l'ufficio dell'anagrafe a Niguarda all'inizio del 2023 beh finalmente la notizia di oggi è che riapre 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 un giorno alla settimana però insomma l'assessora Gaia Romani ha fatto questo annuncio ha detto l'ufficio era stato chiuso all'inizio del 2023 perché è poco frequentato ma i residenti di Niguarda l'hanno chiesto e quindi la riapertura almeno parziale di un giorno a settimana così per espletare le funzioni dell'ufficio dell'anagrafe di Niguarda 331 78 53 555 il nostro numero di Whatsapp grazie mille a Katia che ci scrive buongiorno voci del mattino come sempre all'ascolto beh grazie mille del tuo ascolto e allora visto che ci stai ascoltando e visto che ci state ascoltando in tanti non posso che darvi un po' di musica lei è Anna Lisa ma torniamo un po' indietro del tempo non ci ascoltiamo le canzoni che tutti quanti in questo momento stanno ascoltando facciamo un salto un po' indietro nel tempo beh insomma 2021 non è che vi porto nel 94 nell'82 cioè stavano nel 2021 quando Anna Lisa contava fino a 10 perché sì questa è Anna Lisa con 10 Anna Lisa con 10 e adesso invece è il momento di dirvi quello che siete per noi perché per noi siete la nostra grande famiglia che tutte le mattine ci ascolta qui su Crystal Radio con Good Morning Milano che ci manda i vostri Whatsapp che ci mandano le vostre condivisioni insomma la nostra grandissima famiglia la famiglia di Good Morning Milano e quindi non potevamo che celebrare questo grande essere un'unica grande famiglia con le Sister Sledge con We Are Family Good Morning Milano adesso si balla 8 e 55 qui su Crystal Radio a Good Morning Milano e questa puntata volge al termine grazie dell'ascolto era un po' un annuncio da tre nord effettivamente il regionale per l'ambiente binario 15 in ritardo di 196 minuti non è mai in ritardo invece Ambrogio Curti che arriva puntuale dopo di noi ti tocca la spalla e ti dice uè senti questa e si tutte le mattine te lo dice e tutte le mattine te ne fa sentire una migliore di quella del giorno prima che poi se quella del giorno dopo è migliore di quella del giorno prima vuol dire quella del giorno dopo ancora sarà ancora meglio di quella del giorno prima ce la capite? e quindi seguite Ambrogio Curti verso questa scalata alla perfezione dopo di noi alle 9.05 più o meno ma è puntuale lui è puntuale lui è puntuale il giornale radio che non è mai puntualissimo ma lui è puntualissimo senti questa dopo di noi noi invece puntuali domani mattina vi svegliamo ancora sì vi tiriamo giù dal letto vi urliamo nelle orecchie good morning Milano domani mattina alle 7 qui su Cristal Radio dalle 7 alle 9 tutte le mattine per svegliarci insieme e affrontare al meglio la nostra giornata ciao domani grazie a tutti